Nella splendida cornice che solo i tramonti del lungomare di Ostia sanno regalare, si trova il Mama Flo Restaurant, una location moderna nell'estetica ma classica nello stile dei servizi. Questo scenario contribuirà alla realizzazione di un matrimonio perfetto e vi regalerà un ricordo indelebile. La sala del ristorante è molto ampia, con una capienza di 100 invitati. È dotata di arredamenti dalle tonalità chiare e illuminata durante tutto il giorno, grazie alle pareti di vetro che, oltre alla luce naturale, vi permettono di godere dello splendido panorama. La terrazza presenta tutte le caratteristiche di un roof garden, offrendovi raffinatezza e tranquillità per il vostro ricevimento. Ma la peculiarità di questo posto è che potrete allestire il vostro banchetto direttamente in riva al mare, sulla morbida sabbia, cullati dal suono delle onde e deliziati dal profumo della brezza marina. Uno staff di professionisti saprà accogliervi con il massimo della cordialità, venendo incontro ad ogni vostra esigenza. Questi esperti vi aiuteranno nella progettazione della cerimonia nuziale in riva al mare e sapranno offrirvi servizi di alto livello per la realizzazione del book fotografico, l'intrattenimento musicale e il noleggio auto. Questo rinomato ristorante in riva al mare vanta una cucina di prestigio, caratterizzata dalla freschezza delle materie prime usate per l'elaborazione di pietanze a base di pesce. Al Mama Floor Restaurant, gli chef sapranno proporvi anche prelibati piatti di carne, offrendovi così la possibilità di creare il vostro menù, scegliendo fra gli alimenti che più preferite, prestando attenzione anche a chi è vegetariano, vegano o celiaco. Grazie. 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 Grazie.